Milano Monza Open Air Motor Show, nuovo progetto, dal 18 al 21 giugno 2020 avrà nell'autodromo di Monza la location principale, una grande festa, apertura dalle 10 alle 24 con ticket d'ingresso a 20 Euro, 14 ore di spettacolo, non soltanto l'esposizione delle novità delle case automobilistiche, quindi tutti gli stand, ma anche tante parate perché avremo la pista di Formula 1 a disposizione, tutto quello che sono le due sopralevate, quindi sarà un Motor Show dinamico e soprattutto una grande anticipazione il 17 giugno con la parata dei Presidenti nel centro di Milano, quindi vedremo per la prima volta in un Motor Show le novità delle case automobilistiche guidate dai loro Presidenti nella location di Milano. Milano Monza Motor Show, una grande realtà, una grande novità, aspettiamo centinaia di migliaia di persone che accorreranno a vedere un nuovo formula di show delle auto, il binomio Milano Monza ha già dimostrato di essere assolutamente vincente, anche in questo caso confermerà la sua grande tradizione motoristica. Milano Monza è una giornata di festa perché abbiamo presentato la prima edizione del Milano Monza Open Air Motor Show che mette al centro il nostro autodromo, fa diventare la nostra città sempre più la capitale dei motori dopo il Gran Premio d'Italia che abbiamo appena vissuto che ha avuto risultati da record e per noi questo è motivo di grande gioia e grande soddisfazione. Al Milano Monza Open Air Motor Show ci occuperemo anche e in grande misura delle auto classiche, non solo auto classiche, ma barche d'epoca, elicotteri, aerei, quindi tutto quel mondo classico che un po' si è perso e quindi ci sarà grande attenzione a tanti eventi culturali, mostre, ci saranno esposizioni di archivi, ci sarà tutta una parte culturale che vedo che gli altri eventi non seguono molto. Un saluto particolare agli amici di Pechino dove sono stato lo scorso anno e addirittura con una mia Alfa Romeo, la Giulietta SS prototipo, ho fatto anche il best in show al concorso d'eleganza di Pechino, al primo concorso d'eleganza di Pechino, quindi sono molto vicino e molto affezionato agli amici.